I rafforzati controlli effettuati nelle festività pasquali dal personale in servizio presso l'aeroporto di Catania hanno fatto sì che venissero individuate delle armi all'interno dei bagagli di due passeggeri in due distinti episodi. Un giovane nell'effettuare i controlli di sicurezza al fine di accedere all'interno della sala partenze è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 centimetri. La suddetta arma è stata sequestrata mentre il possessore è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catania. In un secondo episodio un altro giovane di nazionalità romena è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo revolver del XIX secolo. Celata all'interno del bagaglio stivato anche quest'arma è stata sequestrata e il giovane deferito in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria.